ora si parte col passaggio di prova su due ruote si tenga forte ok sei pronto vado come va tutto bene se la fai a tenerti mettiamo 5 e vai adesso attenzione che andiamo giù è che la pista è finita attenzione voilà accompagnato bene delicati delicati ok il primo passaggio ok andiamo in posizione quello che effettueremo adesso è si chiama il trenino a catena in pratica la macchina dietro di noi si avvicinerà fino quasi a sfiorarci il sedere si allineano guardate quasi si toccano ecco ci ha toccato hai sentito? hai sentito che ci ha toccato? attacco attacco guarda lo siamo finito questo passaggio si chiama apertura alare in pratica la macchina di Leo che è dietro di noi si accosterà sotto il nostro motore questo esercizio è importante mantenere la posizione perché io non vedo la macchina di Leo che è sotto e se vado giù in pratica vado con la macchina sopra il suo tetto ok essendoci spazi limitati adesso andremo ad effettuare il ralentic in pratica rallenteremo su due ruote fino a quasi fermarci è un esercizio molto complicato perché bisogna lavorare molto con la frizione e bisogna portare per fermare la macchina quasi a ribaltare siamo immobili ora? eh quasi quasi eccoci eccoci questo è il punto adesso si riparte e via ok e ce l'abbiamo fatta ok e ce l'abbiamo fatta